Ma ancora? Ma che è ca... Con lo scroto a brandelli mi esibisco solfeggiando epiteti gentili, basso anatomici, all'indirizzo della voce est-europea di turno. No, non cambio gestore. Non voglio risparmiare. Sono felice di pagare di più. È il mio hobby, anzi la mia missione. Signor Olivero, lei strano strano sa? Io non qui per giocare. Io lavoro sa? So, arrossisco. Ma per fortuna la voce di turno non mi vede. Gaspe.